Quando si diventa persone mature? Si diventa persone mature quando si comprende che la fanciullezza e l'adolescenza sono solo la prima parte della nostra storia e che dobbiamo mettere la parola fine a questi primi capitoli evitando di riportare nelle pagine del presente ciò che è stato scritto nel passato. Possiamo dunque ritornare alla pienezza della nostra umanità solo se assumiamo e arriviamo a possedere la responsabilità del qui ed ora. Decidendo di scrivere nelle pagine di ogni giorno ciò che sentiamo di poter e dover essere si raggiunge la pienezza dell'esistenza quando passato, presente e futuro si integrano tra di loro nella sinfonia della verità che tutto li mette in ordine e lentamente guarisce. Lo scopo della vita si realizza nella fedeltà a se stessi, a se stesse e nel mettere al servizio del prossimo la ricchezza dell'essere ed è proprio da questa duplice direzione che nasce la sorgente dell'armonia e della serenità. Noi possiamo davvero vivere la nostra vita con un costante condizionamento, il nostro passato. Questo passato può diventare una valigia pesante che di fatto ci impedisce di camminare leggeri nei viali delle vite ma soprattutto di mettere nella valigia della nostra vita ciò che oggi ci rende delle persone realizzate, serene, felici, dotate di autostima, di consapevolezza. Il punto è questo, non sono tanto le nostre ferite, i nostri traumi che ci impediscono di realizzare pienamente la nostra vita ma il fatto di non affrontare queste ferite e di non affrontare questi traumi, lo dico per esperienza personale. So benissimo che cosa vuol dire tenere dentro un demone, tenere dentro delle urla, delle paure che ti impediscono di diventare la persona che sei. Eppure il nostro compito come essere umani è di divinire pienamente umani e si diventa pienamente umani quando entriamo nella nostra cantina buia e con la luce della verità rimettiamo tutto in ordine. Perché spesso mi sentirete dire che è importante mettere in ordine la propria vita? Perché è questo di cui tutti abbiamo bisogno per trovare la strada dell'armonia, della serenità. L'armonia e la serenità non la troviamo nella disarmonia, nell'agitazione, nel tenere le cose sotto il tappeto, nel far finta di niente, nell'accontentarsi, nel fuggire spesso e volentieri dalle nostre problematiche interne. Più delle volte abbiamo bisogno di una persona che saggiamente ha già attraversato quel deserto e dunque può aiutarci più facilmente a superarlo. Cioè ci dice guarda, adesso tu troverai questo, troverai quest'altro, fai così, fai con là. E dunque abbiamo tutti bisogno fondamentalmente per venire fuori da certe situazioni di un aiuto esterno. Questo è un dato di fatto. Però il primo aiuto ce lo dobbiamo dare noi. Siamo noi le prime persone che devono decidere di volersi bene e devono decidere di stabilire che è giunto il momento di vivere pienamente il nostro presente. Vivere pienamente il presente non vuol dire non pensare al futuro o non pensare al passato, ma vuol dire pensare al passato e al futuro in termini evolutivi, in termini di ricchezza, in termini di crescita, in termini di un cammino meraviglioso che ci dà la possibilità di liberare finalmente tutta quell'energia vitale che è da sempre presente dentro di noi. Perché noi siamo tutti dotati, sin dall'inizio della nostra vita, di una meravigliosa energia vitale. È la forza della vita. Ed è l'amore che mette tutto a posto. Imparare ad amare significa imparare a diventare liberi. Perché tramite l'amore si guarisce, tramite l'amore si perdona, tramite l'amore ci si perdona a se stessi, a se stesse. Insomma, tramite l'amore si riesce a fare quel grande cammino verso la vera libertà. Perché la libertà è nella verità, ma la verità è nella capacità che noi abbiamo di amare, di lasciarci amare e di amare noi stessi, noi stessi, affinché la nostra vita diventi davvero una fontana piena di cascata vitale. E il viaggio continua. Grazie.